L'assessore alla sanità Donato Pentassuglia garantisce che la regione attiva già da tempo per gestire la nuova emergenza che si è abbattuta sul Salento e sulla quale la Coldiretti ha lanciato l'allarme, la Bluetong. Dopo la xylella che ha messo in ginocchio gli olivicoltori, ora è la lingua blu a far tremare gli allevatori. Ci stiamo attrezzando per l'acquisto di 10.000 vaccini per fronteggiare la diffusione della malattia che al momento ha tre focolai in Salento. Sono già 500 i capi di bestiame, fra capre e pecore, uccisi dall'infezione. Gli allevatori premono perché la regione avvia una campagna di vaccinazioni a tappeto, prima che sia troppo tardi, tuona il presidente di Coldiretti Puglia Gianni Cantele. Ma Pentassuglia si difende. Abbiamo già fatto due gare per l'acquisto dei vaccini, purtroppo sono andate deserte. La terza gara l'abbiamo bandita l'11 febbraio. Poiché si tratta di grosse cifre, spiega l'assessore, va fatta necessariamente una gara ad evidenza pubblica. 400.000 euro, la prima stima per poter avere un numero di vaccini calibrato per dotare tutti gli allevamenti che devono movimentare. Nel caso in cui anche questa terza gara andasse deserta, c'è una disponibilità di vaccini da parte della regione Sardegna, che tuttavia dovremmo regolamentare. Insomma, siamo al lavoro. Intanto la Coldiretti ha già fatto una prima stima dei danni causati dall'epidemia di Bluetong, mezzo milione di euro. La malattia colpisce tutti i ruminanti, ma uccide solo gli ovini. In Puglia aveva già colpito, ma il sierotipo del virus, ora in circolazione, è nuovo e poiché non è mai stata fatta una campagna vaccinale ad hoc, gli animali sono indifesi. Lecce, Taranto e Brindisi sono le tre province colpite dall'infezione, ma sotto osservazione sono anche i capi in transumanza nel Foggiano. L'assessore Pentassuglia ha paventato un focolaio di Bluetonga ancora più significativo fra giugno e luglio prossimi. Se l'infezione dilagasse, metterebbe a rischio anche la macellazione e il consumo di carne. Per poter vaccinare i capi di tutti gli allevamenti, la regione dovrà stanziare fra i 3 milioni e mezzo e i 4 milioni di euro. Intanto, il Ministero della Sanità raccomanda di vaccinare almeno l'80% degli animali delle specie sensibili entro aprile. Ecco perché Coldiretti insiste che si faccia presto e chiede indennizi per le aziende zootecniche danneggiate dalla lingua blu.